Quale sarà invece il premio numero 3? Beh, si tratta del Best Label Printer con sponsor UPM e premia qui insieme a me sul palco il Sales Director di UPM Raffatlak, Flavio Aragozzini. Benvenuto Flavio, qui con te siamo pronti a premiare l'amministratore delegato per questo premio Best Sales Printer, Domenico Tessera. Benvenuto Domenico, qui leggo 127 anni di storia, ti facevo un po' più giovane però. Hai visto, li porto bene. 127 anni di storia, 4 generazioni in realtà? 4 generazioni, sì. Che hanno coniugato innovazione e tradizione, in che modo? Ci proviamo, il segreto credo sia dare l'obiettivo e poi provare a raggiungerlo. Quindi vediamo due stabilimenti produttivi, molti brevetti attivi, macchinari speciali, di utilizzo di tecnologie, come avete innovato in questo settore e secondo te perché la giuria ha deciso di darti il premio Best Label Printer? Noi investiamo tanto, una buona parte, una percentuale considerevole del nostro fatturato in ricerca e sviluppo. Avete un vostro dipartimento interno? Assolutamente, sì. E quindi no outsourcing di questo, ma brevetti interni? No, cerchiamo collaborazioni con istituti di ricerca e con chi ci vuole dare una mano. Per cui, sì, non è facile oggi, però insomma sono molto contento e ringrazio la giuria e tutti gli sponsor perché è un premio molto importante. Un mondo con la stampa. Assolutamente.